...ci abbiamo ai 300 metri, attacca la Babashov, tocca ancora la Tumere in 3,8 e 32. Ottimo passaggio, la crowd quando stabilì il record del mondo passò in 3,8 e 65. Quindi siamo in qualche decimo in vantaggio sul passaggio mondiale, record del mondo è di 4,11 e 69, vediamo se cade anche il record al termine di questa affascinante lotta tra Petra Taumer e Shirley Babashov. All'ultima dirata, ancora un bellissimo maggio di nottezzo per Petra Taumer. ...la Tumere, Babashov, il pubblico che ha in piedi, costruisce anche noi a fare altrettanto per poter scegliere dal vivo le immagini di questo arrivo allo sprint tra Petra Taumer e Shirley Babashov. ...dai 25 metri, che consiglia ancora Petra Taumer con... ...un passaggio di vantaggio nei gestiti, Shirley Babashov e incisterà Babashov, ma la Tumere potrebbe farsela, finisce la Tumere. ...4, 9, 89, nettamente primati del mondo per Petra Taumer.